La presenza del vicepresidente della Camera e autorevole esponente del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio che è ospite in studio. Di Maio buona giornata. Buongiorno e grazie dell'invito. Ti presento i miei colleghi a Milano. Buongiorno. Un saluto a tutti voi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Tra l'altro va detto insomma che Di Maio ha conosciuto questa sede qualche settimana fa perché è venuto a trovarci, era molto curioso di conoscere quale fosse diciamo così la sede della prima radio italiana e quindi poi abbiamo fissato una data che purtroppo non abbiamo consumato perché lei non è stato benissimo. Sì sì ho avuto qualche problema di salute per questo non ho potuto partecipare a quell'appuntamento che avevamo fissato e grazie anche per avermi ospitato oggi abbiamo recuperato. Mi fa molto piacere aver conosciuto anche il quartier generale romano di questa grande radio. Senta io partirei subito da Macron. Lo hanno definito anche un uomo del sistema gli oppositori. No in Italia diremo dei poteri forti. Macron è espressione secondo lei dei poteri forti e poi le aggiungo voi che non credete alla differenza tra destra e sinistra e vi voglio venire incontro in Francia vi sono scontrate due visioni del mondo no? Una sovranista, protezionista, antiliberista secondo alcuni addirittura xenofoba un'altra fortemente europeista. Ecco da che parte state voi? Ma noi prima di tutto stiamo alla parte dei francesi. I francesi hanno scelto il loro presidente della Repubblica e da parte nostra al nuovo presidente della Repubblica francese vanno tutti i nostri auguri di buon lavoro. Detto questo è chiaro che se si continua ancora a ragionare per destra o per sinistra si perde. Il partito di Marine Le Pen si definiva di destra, era considerato ed è una destra. Come i partiti di sinistra francesi comunque sono fuori dal ballottaggio. A me fanno anche un po' ridere i personaggi politici italiani dei vecchi partiti che adesso salgono sul carro del vincitore di Macron. Ricordo che il PD francese e la Forza Italia francese hanno perso al primo turno neanche sono entrati al secondo turno. Quanto alla questione dei poteri forti e tutte le questioni che si dicono su Macron è sempre la prova dei fatti che poi dimostra le cose. Vediamo all'opera questo presidente della Repubblica e vediamo se veramente manterrà fede. Cioè lei non ha pregiudizi diciamo? Ma noi dobbiamo ragionare quando abbiamo un capo di Stato con la cultura delle relazioni internazionali. Siamo uno Stato che deve avere relazioni e deve avere un interlocutore che è il capo di Stato di un'altra nazione e nel caso della Francia che è un paese del cosiddetto direttorio europeo spero che si possa fare squadra per riuscire a cambiare un'Europa che se non cambia muore. Noi non vogliamo uscire dall'Unione Europea, la vogliamo cambiare che significa prima di tutto un'Europa che cominci a occuparsi della disoccupazione dei cittadini europei e della povertà. Luigi Di Maio ricordiamo innanzitutto che per tutte le domande, perplessità, dubbi, critiche, suggerimenti e ovviamente sostegno per il vicepresidente della Camera siamo a vostra disposizione via sms 349 349 125 via twitter at rtl 125 con hashtag non stop news se volete ovviamente si può aggiungere et Luigi Di Maio immagino farci a piacere al vicepresidente della Camera. Quello che lei ha appena detto è molto molto interessante, lei sa perfettamente che l'elezione francese è stata presentata anche come un derby tra da una parte come diceva Pierluigi gli europeisti dall'altra i sovranisti o chiamateli come vi pare oppure ottimisti e pessimisti. Lei ha appena detto noi non siamo per uscire dall'Unione ma per cambiarla e questo è sostanzialmente il messaggio di Emanuele Macron. Sì era anche il messaggio di tutti i nostri Presidenti del Consiglio dei Ministri degli ultimi anni e infatti poi la differenza la fa sempre la prova dei fatti perché tutti dicono vogliamo cambiare l'Unione Europea però poi bisogna avere il coraggio anche di battere i pugni sul tavolo quando si devono raggiungere gli obiettivi. Non lo dico con violenza ma lo dico perché l'Italia è un paese che non si è fatto rispettare in questi anni a quei tavoli. Molte volte avevamo un Presidente del Consiglio che diceva sì alla Merkel e Hollande ai tavoli poi usciva fuori e faceva una conferenza stampa in cui criticava quelle decisioni a cui aveva detto sì. Questo ci ha fatto perdere enorme credibilità. Poi è chiaro che voglio precisare un'altra cosa si è fatto anche, si sta dicendo, è stato sconfitto il populismo in Francia. Io penso che ci debba essere dato atto che in tutti questi anni noi abbiamo sempre preso le distanze da tutte queste forze politiche emergenti in Europa che vengono definite populiste da Alternative for Deutschland, alla Le Pen, a Podemos, alla stessa UKIP. Noi vogliamo sempre rimarcare la differenza perché questi sono partiti comunque ideologizzati, tutti che si ritengono di destra o di sinistra. E finché si continua a parlare di destra o di sinistra in un paese in cui i cittadini adesso vogliono delle soluzioni che siano di destra o di sinistra, non importa, basta che siano di buon senso, beh è perdente. E infatti in questo momento il Movimento 5 Stelle continua ad andare avanti, a crescere, perché ha smesso di credere alla destra e alla sinistra. Noi siamo una forza politica non ideologizzata. In un paese in cui la destra ci ha fatto equitaria, la sinistra ci ha abolito l'articolo 18, qualcosa non va più nelle vecchie ideologie. Rimanevo ancora un attimo in Europa e a Macron. Lei ha da poco pubblicato proprio un libro, il libro 5 Stelle dei cittadini per l'Europa, mi sembra fosse il titolo appunto. Sì, in realtà è il libro bianco 5 Stelle che rispondeva al libro bianco di Juncker, Presidente della Commissione Europea. E lei elenca un po' di vostre posizioni proprio rispetto all'Europa. C'è qualcosa che assomiglia o che ricorda molto bene le posizioni di Macron? Questo lo vedremo. Di certo dal nostro punto di vista l'Europa deve cambiare prima di tutto permettendoci come paese di fare degli investimenti e quindi cambiare i vincoli di bilancio. Siamo in un paese in cui abbiamo bisogno di investimenti in settori ad alto moltiplicatore, cioè settori che possono portare gettito per lo Stato e mi riferisco a investimenti nell'energia, investimenti nella sicurezza del territorio. Abbiamo ancora migliaia di scuole a rischio idrogeologico, abbiamo da recuperare sul piano dell'energia che significa i 13 miliardi di euro che ogni anno diamo ai carbon fossili, dobbiamo iniziare a spostarli gradualmente verso le rinnovabili e per questo abbiamo bisogno anche di investimenti, di fare deficit per ripagare anche il debito pubblico che è enorme. In generale penso anche che l'euro debba diventare più democratico. Noi possiamo come paesi membri decidere di uscire dall'Unione Europea, ma non possiamo decidere di uscire dall'euro. Ci sono paesi nell'Unione Europea che possono stare fuori dall'euro e altri che devono entrarci per forza. L'euro deve diventare più democratico con clausole di opt-out permanente. Se su questo altri capi di Stato dell'Unione Europea o di governo vorranno darci una mano, quando saremo e se i cittadini vorranno al governo di questo paese, troveremo alleati in maniera trasversale intorno a questi temi. Senta Di Maio, allora non giriamoci troppo intorno perché ormai sono circa un anno che i quotidiani continuano a tirarla per la giacchetta e a spenderla pubblicamente come il prossimo futuro candidato premier del Movimento 5 Stelle. Insomma tutti la definiscono il presidente del Consiglio in pectore dei 5 Stelle. Allora io le faccio una domanda, spero la più corretta possibile, perché qualora gli attivisti del Movimento 5 Stelle la scegliessero come candidato premier alle prossime elezioni politiche, lei accettare e rifiuterebbe, ma soprattutto come si sta preparando ad un'eventualità di questo tipo? Cioè come sta formando se stesso e la sua squadra di collaboratori qualora gli attivisti dei 5 Stelle decidessero che, insomma, sarà lei il candidato premier? Il miglior modo per guardare ad una squadra di governo del Movimento 5 Stelle è creare un programma di governo il più chiaro possibile. Partiamo da questo. Infatti entro fine luglio il nostro programma di governo che stiamo creando con i nostri iscritti sulle nostre piattaforme e con docenti e esperti, docenti universitari e esperti che spiegano i vari temi e fanno votare i nostri iscritti sarà pronto appunto entro fine luglio. Finito il programma di governo, a settembre, verso fine settembre, individueremo il capo della squadra di governo, il candidato presidente del Consiglio dei Ministri. Dopodiché passeremo ad individuare i ministri che saranno presentati tutti prima delle elezioni politiche. Però questo l'avete già detto, io l'ho chiesto un'altra cosa. Lei rifiuta, accetta? No, ma io ho sempre detto che se dovessero scegliere i nostri iscritti e dovessero scegliere me come candidato presidente del Consiglio io sarei disponibile e questo l'ho sempre detto ma adesso dobbiamo fare un passo avanti, cioè aprire il più possibile il Movimento alle migliori energie di questo Paese sia per la composizione e la creazione del programma e sia per la composizione della squadra di governo. Se possiamo fare un appello al di là di chi sarà il candidato presidente del Consiglio dei Ministri della nostra squadra di governo, se possiamo fare un appello è tutti coloro che vogliono mettersi in gioco, che hanno una storia professionale, personale, di competenze, di energie, ci diano una mano, si facciano avanti perché questo è sempre stato il Paese in cui la maggioranza era fatta da persone oneste e capaci che però troppo spesso rinunciavano a mettersi in gioco e così i peggiori andavano avanti. Allora tutti quelli che vogliono mettersi in gioco e che vogliono provare a cambiare questo Paese avranno sicuramente spazio nel Movimento 5 Stelle. Beh, devo dire Fulvio e Giussi che l'apertura, diciamo, alla cosiddetta società civile e chi è fuori, diciamo, la logica dei partiti lo hanno fatto sempre tutti i candidati premier dei vari partiti politici. La differenza è che il Movimento 5 Stelle per anni è stato raccontato che è un movimento che lavorava tutto all'interno, incapace di confrontarsi con le opinioni diverse. Diciamo che ogni forza politica rischia sempre l'autoreferenzialità, no? Noi cerchiamo sempre invece di portare il Movimento fuori dall'autoreferenzialità e questo è un obiettivo anche per la squadra di governo. Lei diceva tutti lo dicono, tutti lo hanno detto e noi lo dobbiamo dimostrare, cioè non facciamo appelli che poi non accogliamo, le cui risposte non accogliamo. Quindi in questo momento noi facciamo un appello a tutti coloro che vogliono darci una mano, si facciano avanti, ci scrivano, si propongano nei nostri gruppi locali ma anche a livello nazionale e dobbiamo poi tener fede a questo impegno, cioè aprirsi il più possibile ovviamente in coerenza con i nostri valori fondanti. Stavo pensando poi selezionateli bene perché non vorrei che qualcuno pensasse all'utile autobus, sicuramente starete attentissimi però sapete che poi c'è il potere piace, non sto parlando di Luigi Di Maio in persona o di qualcun altro, il potere piace, ha un gusto che per qualcuno è inebriante, quasi una droga, quindi come dire poi la selezione in termini di qualità è fondamentale. Ah una curiosità, a settembre come le chiamerete? Perché vedete le comunarie saranno presidenziarie, la butto lì eh. Beh vedremo, ancora non esiste. Non l'avete coniato, vabbè. Se vuole partecipare ci partecipare. Senti Giussi. Mi sembra molto più significativo. No, partecipare magari all'individuazione. C'è il nome della presidenziale. Va bene, proponiamo questo. Dimmi. Giussi, non so se hai notato che insomma in queste aperture che ha fatto Di Maio e Radio hanno già così insomma eh come dire collezionato eh degli artisti anche diciamo della musica leggera italiana o dello spettacolo che insomma ho visto Giosquillo a cena con Di Battista e con Peppe Grillo. Avete avete così insomma un metà pensiero in più. Ma tutti quelli che in questi anni hanno sostenuto il Movimento 5 Stelle anche nel mondo dello spettacolo sono sempre ben accetti ma è chiaro che tutte le persone che ci sostengono eh lo fanno con una libertà di pensiero e soprattutto senza doppi fini anche perché qui non abbiamo veramente nulla da dare. La ricorda Giosquillo oltre le gambe c'è di più. Lo sta dimostrando. No scusate però prima di arrivare a chi sarà il presidente del consiglio poi lo vedremo e qui io mi rendo conto che la domanda le dico onorevole l'abbiamo fatta pochi giorni fa anche a Matteo Renzi uguale eh. Capisco che non è no ma non la domanda ci mancherebbe ci sta ma per molti ascoltatori può sembrare un già sentito una cosa noiosa ma è fondamentale. La legge elettorale perché poi noi possiamo parlare di quello che vogliamo ma le regole che devono valere per tutti sono realmente il primo terreno vitale di un sistema che voglia dirsi funzionante e democratico. Ieri Renzi. Io sono tutti d'accordo. Renzi ieri è stato chiaro dal suo punto di vista ha detto io aspetto ho dato tutte le possibilità che si che potevo ritenere corrette ai miei avversari ai miei competito adesso aspetto dal fronte del no ma parlava lei lo sa benissimo parlava al Movimento 5 Stelle una proposta. Allora il Movimento 5 Stelle che cosa propone? Beh noi in questo momento vogliamo eh scrivere queste regole del gioco insieme al partito di maggioranza che ha la maggioranza in Parlamento in questo momento del partito democratico. Lo vogliamo fare per due ragioni. Uno c'è stato un appello del presidente della Repubblica Mattarella che è l'ennesimo appello di un presidente della Repubblica che chiede di fare una legge elettorale in modo tale che ci sia eh una chiarezza nel risultato dopo le prossime elezioni politiche. E secondo perché il paese è in grave crisi e non possiamo permetterci nuove elezioni politiche in cui ancora una volta si partorisce un risultato incerto che porta a eventuali inciuci o eventuali ehm grandi ammucchiate. Per questo abbiamo fatto una proposta a Matteo Renzi e al Partito Democratico. Partiamo dalla base eh che è la legge elettorale che ha partorito la la Corte Costituzionale alla Camera dei Deputati. Chiamiamolo legalicum perché è una legge elettorale costituzionale in quanto l'avvidimata la Corte Costituzionale. Però non vogliamo essere rigidi. Vogliamo andare incontro al partito di maggioranza e dire quella è la base. Fateci le vostre proposte di correzione nell'ottica di governabilità, di assicurare una governabilità che significa uno vince le elezioni e può realizzare un programma elettorale. Se invece dobbiamo rimettere insieme grandi forze, tante forze politiche poi alla fine non riesci neanche a fare niente dal punto di vista del programma. L'obiettivo è fare una legge che assicuri una governabilità. Loro che cosa propongono sulla base del legalicum? Alcuni correttivi guardiamoli insieme in commissione e poi approviamo insieme una legge elettorale eh condivisa. Esatto quindi rimanda al PD di fatto. Esatto uno suo per esempio abbassare adesso al 40 per cento scatta il premio. 40 e tanto eh? L'importante è che sia nell'ottica della costituzionalità della legge. Io ho già detto su questo ci sono i premi di maggioranza, ci sono le soglie di sbarramento, l'unica cosa che io personalmente non toccherei è il premio alla lista perché se cominciamo a fare il premio alla coalizione finiamo come Prodi con Mastella o Berlusconi con Fidi che poi si sfilano le varie i vari partiti interni e diventa un disastro per la nazione. Ma eh proprio perché in questo momento vogliamo lasciare ampio margine di eh discussione trattativa in commissione alla luce del sole. Eh noi diciamo quella è la base di partenza. Proponeteci le modifiche ma noi la nostra proposta ve la facciamo. Cioè siamo disponibili a discutere su quella base di partenza che è il legalicum. Quindi abbiamo una legge elettorale di partenza. Anche su eh gli altri temi della legge elettorale siamo pronti a discuterne. E questo è un passaggio importante perché eh ci dicono sempre che noi siamo rigidi che non vogliamo discutere su su niente. Faccio anche presente che in questi quattro anni e mezzo come forza politica di opposizione noi per il venticinque per cento dei voti dati in Parlamento abbiamo votato con la maggioranza su leggi che ci vedevano d'accordo. Sia di proposta nostra che di proposta della maggioranza. Quindi anche questo mito eh per il quale il Movimento 5 Stelle dice sempre no per un quarto delle votazioni ha detto sì a proposte interessanti. Di Maio cioè eh secondo lei eh questa situazione cioè a che cosa direbbe proprio no rispetto a proposte che possono arrivare da fuori? Qual è qual è la cosa che il premio il premio alla coalizione perché quella è una mucchiata e diventa la storia del nostro paese che ha fatto cadere quasi tutti i governi e non ha permesso di realizzare eh quelle leggi o quelle riforme importanti che si devono realizzare. Io penso che sia arrivato il momento e lo dico a Matteo Renzi dalla vostra radio ci faccia capire cosa vuole fare sulla legge elettorale perché noi una proposta gliel'abbiamo fatta gliel'abbiamo fatta una settimana fa e aspettiamo una risposta chiara perché su questo siamo pronti a discuterne per il bene del paese e soprattutto per un paese che in questo momento ha tutti gli indici negativi disoccupazione giovanile disoccupazione generale quando si abbassa la disoccupazione giovanile perché molti giovani o perdono la speranza di cercare lavoro o o se ne vanno all'estero. Ecco Di Maio prima di passare alla prossima domanda su Renzi voglio chiederle solo una cosa. C'è un rapporto personale tra voi due? Cioè non siete mai sentiti? Mai avuto. Gli unici rapporti che abbiamo avuto sono stati tramite quei quelli che sono stati ribattezzati pizzini all'inizio della sua esperienza di governo che mi ha inviato in aula. Per il resto non abbiamo mai avuto rapporti neanche telefonici, non ci siamo mai sentiti ma ovviamente in questo momento lui è segretario del Partito Democratico e noi chiediamo al Partito Democratico sul tema della legge elettorale poi sugli altri temi possiamo essere d'accordo, andremo l'uno contro l'altro però scriviamo le regole del gioco in modo tale che alle prossime elezioni gli italiani possano scegliere davvero. Oggi abbiamo una legge per colpa loro, una legge alla Camera e una legge al Senato tutte e due fatte dalla Corte Costituzionale perché sono due leggi fatte dalla politica in passato bocciate perché incostituzionale. Bene ecco la domanda è questa. Adesso io non voglio girarci troppo intorno, non voglio peccare di disonestà intellettuale nei confronti del pubblico di RTL 125, io sono un cittadino di Roma e più volte mi è capitato di esprimere le mie riserve anche pubbliche nei confronti del sindaco Virginia Raggi, ma non voglio stare su questa questione perché è durata mesi la polemica tra 5 Stelle e diciamo i cittadini di Roma su Virginia Raggi e devo dire che non mi sembra neanche troppo corretto, lasciamola lavorare adesso e vediamo che cosa porterà a casa. Però una cosa va detta Di Maio, cioè tutte le persone che guardano magari con curiosità al Movimento 5 Stelle, che non hanno votato Movimento 5 Stelle e che però hanno visto alla prova dei fatti alcuni rappresentanti, per esempio quello che è accaduto a Roma, dicono e non voglio far riferimento a quello che è accaduto ad Harvard su cui i mezzi di comunicazione hanno strumentalizzato fin troppo secondo me, però il tema della preparazione c'è, cioè voi dite noi siamo onesti, non veniamo da passati politici di complicità con i palazzinari romani, con i poteri forti, con la criminalità organizzata e con tutte quelle cose lì, però al tempo stesso l'idea che date al paese, ma non parlo di lei, sto parlando dei rappresentanti locali che per adesso si sono misurati con i governi delle città, spesso si sono manifestati abbastanza impreparati su molti argomenti, cioè questo è un tema che se voi vi volete aprire al paese, dovete comunque affrontare. Ma io penso prima di tutto una cosa, l'immagine del Movimento 5 Stelle come una forza politica di impreparati è stata anche molto indotta, creata e fatta percepire in maniera sbagliata, noi siamo la forza politica per esempio in Parlamento con il maggior numero di persone che hanno una laurea, che hanno un loro curriculum personale e storia professionale. Abbiamo eletto dei sindaci che stanno gestendo delle crisi cittadine pazzesche, in questo momento c'è il rischio che ci sia un sabotaggio delle aziende dei rifiuti e degli impianti dei rifiuti che riguardano Roma e abbiamo denunciato tentativi di sabotaggio e danneggiamento di impianti, danneggiamento di mezzi che non ci consentono di gestire la nettezza urbana correttamente e nonostante questo lo stiamo gestendo. È stato avviato un piano buche a Roma dopo tanti anni, ci abbiamo investito decine e decine di milioni di euro. Tra l'altro ricordo che in soli sei mesi, nei primi sei mesi di Roma abbiamo tagliato 40 milioni di euro di sprechi, lo staff di Virginia Raggi è il 70% più piccolo di quello del suo predecessore, abbiamo tagliato tutto quello che non serviva. Chiara Appendino è arrivata a Torino, c'era Fassino che doveva essere il grande sindaco di Torino, abbiamo trovato un buco di bilancio a 60 milioni di euro nascosto per anni. Voglio dire, noi stiamo gestendo le grandi crisi e io sono orgoglioso del fatto che i nostri sindaci le stiano gestendo senza indebitare ulteriormente i loro concittadini, perché quando si fa il paragone con Alemanno, Rutelli e Veltroni, ma siamo tutti bravi a gestire le città facendo 20 miliardi di euro di debito. Se volete ne facciamo un altro po' e cominciamo anche noi a fare lo sfalzo del passato, ma se veramente vogliamo abbassare il debito e quindi abbassare le tasse dei romani, dei torinesi, di tutte le città che gestiamo, dobbiamo fare delle operazioni che magari non sono il taglio di nastro, ma sono operazioni di riassestamento del bilancio e investimento lì dove serve. Tutto quello che stiamo tagliando a Roma lo stiamo investendo in servizi essenziali. I cittadini romani hanno ragione a dire non percepiamo ancora i cambiamenti, ma è logico perché un sindaco che eredita una città in questo modo il primo anno mette a posto le poste di bilancio, il secondo comincia a fare gli investimenti. Infatti noi siamo partiti pochi mesi fa col piano BUG e gli investimenti sia nel settore scolastico, soprattutto per gli studenti disabili e sia nel settore dei servizi sociali. Ma questo quindi, scusi Di Maio, vale anche per il governo del paese? Cioè qualora voi doveste vincere le elezioni politiche non è che andate lì e fate la rivoluzione. Ci vuole tempo per cambiare le cose. Ci vuole tempo però quando sei al governo del paese hai un vantaggio, che scrivi le leggi. Il sindaco invece subisce le leggi. È diverso. Quando puoi arrivare al governo del paese hai una maggioranza per dire in questo paese si spendono ancora 10 miliardi di euro di enti inutili? Allora iniziamo un piano di razionalizzazione e quei 10 miliardi disposti verso riduzione delle tasse alle imprese, oppure investimenti in università e ricerca, oppure ancora aiuto per le imprese in difficoltà. Però quando sei al governo tu hai la possibilità di maneggiare lo strumento principe per riuscire a cambiare il paese, che è la legge. E poi io sono dell'idea che non si debbano fare troppe leggi in questo paese. Ce ne sono 25 mila già di rango primario in vigore e ogni due giorni e mezzo il Parlamento ne aggiunge una nuova. Quindi probabilmente noi saremo molto impegnati ad eliminare un po' di leggi che non servono, soprattutto quelle che non funzionano o che non sono mai state attuate. Pensate anche allo spirito con cui si fanno le leggi oggi. Si fanno per dire di averle fatte. La legge sulla legittima difesa in cui puoi sparare al ladro solo di notte e i ladri sono contenti perché adesso possono fare orari più decenti di lavoro, basta lavorare di giorno. Più che un pasticcio, guardi, quello è l'atteggiamento culturale di un Parlamento che fa le leggi per dire abbiamo fatto una legge che rincorre l'attualità. Che non gli rifrega niente poi di quale sia la reale efficacia. Noi siamo solo degli osservatori. Un Parlamento, una politica, quando rincorre l'attualità invece di gestire il paese e tendenzialmente puoi fare degli errori. Alcuni traggi comici come quello della distinzione giorno-notte. Tra l'altro, se permettete una parentesi, chi ascolta RTL 125 sa che quando si è trattato di criticare la gestione del Comune di Roma e la sindacatura raggi non ci siamo mai tirati indietro, ma non per antipatia che finiamola con sta storia. Noi facciamo semplicemente il nostro lavoro. Ci sono due cose, però non sono romano, risiedo a Milano, ma un pochino alla capitale la conosco, su cui sarò sempre con la raggi. Uno, le pedonalizzazioni, forza, insisti, tra l'altro credo anche il quartiere dove abita Pierluigi, io sono un grande sostenitore delle pedonalizzazioni, Monti, e la questione dei centurioni, non se ne può più, cioè non se ne può più con i centurioni, sempre con la raggi, basta. Il tarro ci ha bloccato. Una cosa veramente, veramente ridicola. A proposito di paese, di governo del paese, onorevole Di Maio, noi l'abbiamo detto ai nostri ascoltatori, vogliamo anche provare a far fare un'idea ai very normal people di ciò che sarebbe l'Italia con il Movimento 5 Stelle. Beh, in politica economica per voi è assolutamente qualificante il reddito di cittadinanza. Allora le chiedo due dubbi classici, che devo dire, io mi iscrivo al partito di chi ha questi dubbi. Uno, come si fa a non far diventare il reddito di cittadinanza un disincentivo al lavoro, soprattutto in alcune aree geografiche, siamo tutti e due di Napoli, onorevole e per i più giovani. Due, come lo si finanzia? Non mi dica la prego l'anticorruzione perché sa che bisogna trovare delle coperture certe. No, 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 noi sul reddito di cittadinanza che costa 17 miliardi di euro all'anno abbiamo individuato tutte le voci di spesa, sono 25 voci di spesa che passano sia per una seria spending review attraverso le centrali uniche d'acquisto della pubblica amministrazione e in generale attraverso tagli a tutto il mondo degli enti inutili, ma anche degli sprechi e delle risorse legate alla politica. Ma c'è tutto un altro fronte che è quello della maggiore tassazione sul gioco d'azzardo, anche sulle società autostradali che pagano poco di tasse e fanno pagare caselle esorbitanti ai cittadini. Ci sono 25 voci di spesa che noi abbiamo confezionato tre anni fa e monitoriamo passo passo ogni giorno per far sì che quando arriveremo e se arriveremo al governo decideranno gli italiani potremo avere subito una legge operativa da approvare. Sull'altro fronte invece degli abusi abbiamo prima introdotto. Prima ci tengo agli abusi perché molto spesso si fanno dichiarazioni mendaci, ecco se fai una dichiarazione mendace per ottenere il reddito di cittadinanza rischi sei anni di galera. Secondo, per la nostra legge, secondo per quanto riguarda invece il pericolo del cosiddetto assistenzialismo, non puoi stare sul divano e prendere il reddito di cittadinanza. La tua giornata è impegnata o in formazione lavoro per un lavoro che ti proporrà lo Stato e che serve allo Stato o otto ore settimanali impegnate in lavori di pubblica utilità. Che cosa significa? Che con il reddito di cittadinanza noi permettiamo ad un sindaco di avere a disposizione per otto ore a settimana tutti i disoccupati del suo comune che devono fare, se vogliono il reddito di cittadinanza, lavori di pubblica utilità. Quindi abbassiamo i costi degli appalti e dei servizi pubblici, ma in generale io il reddito di cittadinanza lo vorrei portare un attimo anche su un altro piano. Attraverso un nostro studio che noi abbiamo commissionato tre anni fa, abbiamo scoperto che entro il 2025 il 60% dei lavori che esistono in Italia si trasformerà o sparirà. Si chiama lavoro 2025, l'abbiamo fatto con i più grandi esperti di lavoro e di sociologi italiani. Ci hanno detto questo, che cosa significa? Che nei prossimi 7-8 anni molte persone perderanno il posto di lavoro e non potranno più ricollocarsi in quel mondo del lavoro perché quel lavoro non esisterà più. Noi abbiamo il dovere, per chi perderà il posto di lavoro nei prossimi anni, che sarà un ventenne o un cinquantenne, di formarli come Stato attraverso la formazione del programma Reddito di cittadinanza e reinserirli in nuovi modi del lavoro che nasceranno. Pensate che il 50% dei lavori italiani nel 2025 saranno lavori creativi. Prima il creativo era il guaio della casa, oggi ti inventa Facebook, ti inventa TripAdvisor oppure nuovi modelli di insegnamento o nuove tecniche dell'agricoltura, nuove tecniche legate a diffusione di cultura dei nostri beni culturali, quindi della cultura del turismo, della cultura legata alla nostra enogastronomia. C'è tanto da fare, ma noi dobbiamo convertire le nostre forze lavoro e non ci possiamo illudere di dire agli italiani avete perso il posto di lavoro, trovatevene un altro. Il mondo del lavoro si sta trasformando così velocemente che in Italia i lavori operai tra 8 anni saranno solo il 20%, solo il 30% sarà impiegatizio perché la maggior parte del lavoro pesante si sposterà verso l'est, la Cina sarà la più grande industria del mondo e l'India sarà il più grande ufficio del mondo. Noi dobbiamo combattere invece, abbiamo grandi potenzialità sul design, sui beni culturali, sul turismo, sul made in Italy e sulla creatività soprattutto legata alle grandi tecnologie. L'Italia non ha niente da invidiare agli altri paesi. A Genova abbiamo laboratori di robotica che ci invidiano in tutto il mondo, in Abruzzo abbiamo un'azienda che produce il 30% di tutti i sensori che si montano nel mondo sulle auto attuali, sulle auto intelligenti. Abbiamo tanto da fare, solo dobbiamo mettere in rete queste energie e soprattutto formarle. Il reddito di cittadinanza è una manovra economica anche. Le nostre stime dicono che oltre un punto di spill si può guadagnare facendo il reddito di cittadinanza. Perché? Perché tu prendi 14 miliardi di euro, perché a 17 si arriva con la riforma dei centri per l'impiego che oggi non funzionano e dobbiamo riformarli. Quei 14 miliardi li metti in tasca chi oggi ha difficoltà economiche, li comincerà a spendere nell'economia reale e crea il volano per far ripartire l'economia e i posti di lavoro. Di Maio, lei ha sicuramente letto le riflessioni che sono state scritte dal politologo americano Ludwak dopo la sua visita ad Harvard. Dal di là delle polemiche che onestamente non mi interessano, mi piacerebbe su un punto vorrei una risposta. Lui ha parlato di inutilità di questo viaggio e l'America non è interessata al 5 Stelle, Grillo è un sostenitore dello status quo, insomma una serie di cose. Però a un certo punto ha detto c'è l'idea che Grillo non voglia andare al governo davvero. Cioè è un po' così? Vi spaventa un po' come dice Rovazzi andare a comandare? Sul serio? Ma andare a comandare ovviamente mutuiamo l'espressione della celebre canzone. Il senso di quello che stiamo facendo ha un unico obiettivo. Noi stiamo facendo tutto questo per andare a governare questo paese. Ci abbiamo provato ad entrare in Parlamento come opposizione provando a stimolare la maggioranza su alcuni temi, ma in tutti questi anni poco è stato fatto o nulla. Hanno provato anche a copiare qualcosa di nostro ma solo negli slogan. Adesso noi abbiamo piena consapevolezza che questo paese si può cambiare se si riesce a governarlo. Governarlo non sarà semplice. Non è solo una questione di burocrazia, di strutture dei ministeri. Si può governare questo paese se il giorno dopo le elezioni vai a parlare con tutti quelli che non ti hanno votato e comunque provi a coinvolgerli in un progetto. Perché un paese diviso non lo riuscirai mai a governare. E non è una questione di alleanze con gli altri partiti. È di alleanze con i cittadini italiani in un paese in cui le differenze sociali aumentano e quindi aumentano anche i conflitti. Mi permetto anche di dire che l'analisi fatta dal politologo che avete citato è un'analisi che però parte da un presupposto sbagliato. Io sono stato invitato dall'Università di Harvard per parlare del Movimento 5 Stelle. C'era grande curiosità e so che è nata anche dopo la vittoria di Trump. L'Università di Harvard si è interrogata molto dopo la vittoria di Trump su cosa non avesse capito bene di quello che stava avvenendo nel panorama politico statunitense e quindi vogliono conoscere anche tutte quelle realtà politiche che ci sono in giro per il mondo e che loro considerano ultradestre o ultrasinistre. Io infatti sono stato presentato lì come un politico populista di destra. Però dopo il conflitto... Perché non l'ha interrotto? Perché mi sembrava scorretto interrompere un professore di Harvard che stava facendo il suo discorso introduttivo. Però poi ha fatto il mio discorso poi ho fatto il mio discorso. Poi abbiamo fatto il confronto e lo stesso professore ha chiuso dicendo ciò che avete ascoltato è uno dei più interessanti e sensati tentativi di rinnovare la politica in questa contingenza storica. Quindi poi si sono fatti un'idea differente del Movimento 5 Stelle. Ma questo è il mio obiettivo. Quando io faccio queste missioni internazionali voglio andare a raccontare ad altri esponenti politici ma anche a realtà accademica che cos'è la nostra forza politica. Perché tendono ad accomunarci con le destre o le sinistre europee, con i partiti emergenti europei ma probabilmente nei nostri programmi ci sono molte più buone pratiche dei partiti tradizionali europei che dei nuovi partiti europei. Il reddito di cittadinanza in altra forma esiste in tanti altri paesi europei fatto dai vecchi partiti. La banca pubblica per gli investimenti in Francia l'ha fatta online, si chiama BP France e aiuta le imprese o i commercianti in difficoltà ad avere prestiti perché le banche private non fanno questi prestiti. Ma ho ben capito, scusi, lei è entrato come populista di destra e ne è uscito come? Ne sono uscito, le dico le parole, nuovi politici e nuovi candidati capaci di inventare nuovi metodi di azione politica per cercare di riprendere contatto con la gente e darle una voce. Guarda quanto è contento Di Maio. È la stessa persona che vi ha dato del populista di destra. Senta Di Maio, diciamoci la verità. Allora, lei qualora il Movimento 5 Stelle andasse al governo, sarà o non sarà il Presidente del Consiglio, lo vedremo, sta di fatto che io vorrei sapere, vorrei che gli italiani sapessero, se la squadra di governo è fatta da professionisti già vicini alle posizioni del Movimento 5 Stelle, se prenderete qualcosa da fuori, anche magari da risorse che già sono state spese da altri partiti politici al governo, se sarà una squadra under 30, under 40, se il tema della rottamazione sarà presente nella scelta dei ministri. Quanti saranno i ministri, se come sempre accade, saranno sopra i 15 per accontentare tutti sotto i 12? E soprattutto qual è, secondo me, il primo provvedimento, ma il primo, che il Movimento 5 Stelle prenderà qualora vincesse le elezioni politiche? Beh, sicuramente il primo provvedimento sarà proprio il radio di cittadinanza, perché è un provvedimento a 360 gradi. Aiuta le imprese, proprio perché innietta nell'economia reale, nuove risorse economiche. Aiuta i pensionati, perché porta tutte le pensioni minime a 780 euro al mese, che è la soglia di povertà individuata dall'Eurostat, di povertà relativa, e aiuta i giovani. Ricordiamoci che in questo paese siamo il primo paese in Europa per inattività dei giovani, per i giovani NIT, e una buona parte va via. L'anno scorso abbiamo avuto 115 mila emigranti italiani verso altri paesi. Quindi questo è un provvedimento a 360 gradi, che probabilmente faremo per decreto legge, perché è un provvedimento importantissimo che ha anche i caratteri di necessità ed urgenza. Quanto tempo ci vuole, mi scusi, poi continua con la risposta, quanto tempo ci vuole con un decreto legge, qualora voi andaste al governo a mettere a punto la faccenda? Noi il disegno di legge l'abbiamo già pronto e con tutte le coperture operative. Quindi si tratta solo di mettere in moto la presidenza del Consiglio dei Ministri e i ministeri in modo tale da convocare il Consiglio dei Ministri. Dopodiché il decreto legge viene approvato al Consiglio dei Ministri, diventa legge immediatamente e poi va convertito entro i primi cento giorni. Il classico primi cento giorni. Anche se io non credo molto ai primi cento giorni perché diventano sempre... Portano anche un po' sfiga, diciamo, perché lo dicono un po' tutti. Continui la risposta. Per quanto riguarda invece il resto, allora prima di tutto under 30, over 30. Secondo me in questo momento l'Italia non ha un problema generazionale. Ha un problema di generazione trasversale di cittadini che vuole provare a cambiare le cose e che è sempre stata esclusa dalle grandi decisioni. Quindi non è neanche una questione di... Si dice, ma li prenderete interni, ministri o esterni? Saranno personalità interne al movimento o esterni? Questo è un movimento che deve essere il più aperto possibile alle migliori energie del Paese. Quindi anche chi magari non conosce bene il movimento o magari non ne apprezza tutto quello che dice, si avvicini e provi insieme a noi a portare avanti dei temi su cui invece è d'accordo e insieme potremo costruire la squadra di governo, ma non insieme al Movimento 5 Stelle, insieme a tutti coloro che ci stanno. Io penso che in questo Paese, in questo momento, l'Italia si divida in due parti, i furbi e i fessi. I fessi sono quelli là che si ritengono onesti, ma a un certo punto non ne possono più di vedere i disonesti, ritenuti furbi, che gli passano davanti. E voi chi stareste? I fessi? Noi siamo gli onesti, ma soprattutto vogliamo stare con la parte onesta di questo Paese che non ne può più di considerare. Furbi, fessi e onesti. Voi siete gli onesti. No, allora, spiego meglio. In questo Paese ci sono gli onesti che si considerano dei fessi. Sempre superare dai disonesti che invece sono considerati furbi, sono quelli che ci sanno fare e invece quella gente lì è quella che ha ucciso la meritocrazia in questo Paese. Onorevole Di Maio, detto che ci sono rimasti nove minuti e quindi facciamo domande e risposte veloci. Anche qui, normalmente la gente si appassiona poco, però poi la politica estera è fondamentale. Le chiedo la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto alla Nato, proprio per andare chiaro, e poi ho anche un mio personale interesse a chiederle rispetto a Israele. Sì. Sul tema della politica estera, in questo momento a livello geopolitico stanno cambiando tantissime cose. Dal punto di vista della Nato noi non vogliamo uscire dalla Nato, l'ho detto più volte. Siamo alleati degli Stati Uniti, ma non vogliamo essere sudditi degli Stati Uniti. Significa che in questo momento, per esempio, gli Stati Uniti ci stanno chiedendo di spendere altri 14 miliardi di euro in armamenti o comunque per finanziare il progetto Nato. E su questo dobbiamo parlare col Presidente Trump, non dire soltanto sì signore come ha fatto Gentiloni, perché 14 miliardi di euro non ci sono mai per il reddito di cittadinanza o per l'abbassamento delle tasse alle imprese e ai commercianti, ma poi spuntano fuori, ogni volta si devono aiutare i banchi o spendere soldi in armamenti. Per quanto riguarda Israele, io sono stato in Israele quest'estate, è una nazione che è considerata la start-up nations, perché lì si stanno facendo progetti di alta tecnologia e veramente innovativi nel mondo delle start-up a cui guardo con grande interesse. Non abbiamo mai nascosto la volontà di riconoscere lo Stato di Palestina, ma su questo non significa che vogliamo eliminare lo Stato di Israele. Non sia mai, anzi, due Stati, due nazioni in quella terra e dobbiamo lavorare affinché ci sia un processo di pace tra le due realtà, in quella regione tra le due realtà. Non ci sono molti minuti, ma il tema flussi migratori ONG, dobbiamo toccarlo con lei Di Maio. Intanto, come intendete gestire i flussi migratori? Noi abbiamo due problemi fondamentali. Uno, che l'Italia è diventato veramente l'unico paese a accogliere tutti i flussi del Mediterraneo che gli altri spingono. Pensate, l'anno scorso in Italia nel 2016 abbiamo avuto 180 mila ingressi, la Spagna ne ha avuti 8 mila contemporaneamente. Di questi 180 mila la maggior parte devono restare in Italia per un muro che non esiste dal punto di vista materiale, ma esiste dal punto di vista legislativo e si chiama Regolamento di Dublino 3. Cioè tutti quelli che arrivano nel paese di prima approdo sono un problema del paese di prima approdo. Mentre per noi, e questo che testimonia anche la volontà di restare nell'Unione Europea, si deve andare ai tavoli europei per cambiare il regolamento di Dublino e dire ne arrivano 100 in Italia, 95 vanno negli altri paesi, 5 restano qui, quelli che possono di questi 5 restare perché hanno diritto d'asilo li accogliamo, quelli che non possono restare in base ai trattati internazionali vanno rimpatriati. Questo è un obiettivo ovviamente a medio termine che significa gestire i flussi. Dall'altra parte i flussi nascono per due ragioni. Destabilizzazione delle regioni in Medio Oriente o nel Nord Africa e su quello abbiamo molte colpe. Abbiamo bombardato la Libia nel 2011 come stato italiano e poi cambiamenti climatici. Non dimentichiamo mai che ci sono 500 milioni di persone che stanno per spostarsi da tutto il mondo, causa siccità per cambiamenti climatici. Anche su quello noi come Occidente abbiamo grandi responsabilità perché come Occidente dobbiamo lavorare ad abbassare le nostre emissioni per abbassare la temperatura terrestre. E mi dispiace che all'ultima COP21 già il risultato era modesto e adesso al G7 dell'energia che si è fatto qualche settimana fa anche quelli che potevano essere gli obiettivi minimi per abbassare il sull'iscaldamento terrestre in questo momento sono stati boicottati da alcuni stati. Dobbiamo lavorare nell'ottica che tutti i danni che stiamo facendo al mondo ci ritorneranno contro anche dal punto di vista dei flussi migratori. Una domanda personale ma gliela faccio in chiusura. Voglio chiederle altro. Parliamo di informazione. Qual è lo stato di salute del rapporto tra il Movimento 5 Stelle e l'informazione italiana dopo le critiche che sono state mosse più volte da Peppe Grillo nei confronti dei media e soprattutto le chiedo qualora il Movimento 5 Stelle dovesse andare al governo del Paese sulla RAI. Che fate? Prima di tutto i due concetti sono collegati se ci pensiamo perché il problema della libertà di informazione è legato a quanto la politica o editori che magari non sono puri, cioè che hanno altri interessi economici nel Paese possano guidare i vari organi di informazione. Oggi la RAI è lottizzata o renzizzata dai partiti. Gli altri tre canali li ha in mano l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Berlusconi è comunque ancora in politica e ci sono troppi giornali secondo me che hanno editori legati ad altri mondi dell'economia. Quindi gestiscono l'informazione ma hanno anche interessi nel mondo dei rifiuti o nel mondo dell'energia o in altri mondi economici. Allora dobbiamo tornare ad un'ottica di RAI prima di tutto che sia non più lottizzata dai partiti ma legata a un processo meritocratico di selezione dei suoi dirigenti e su questo noi abbiamo una proposta di legge che va nell'ottica della meritocrazia sganciando totalmente le nomine della RAI dalla politica. Quindi si fanno bandi, si fanno concorsi e si accede per me. In bocca al lupo, la sento da anni sta storia. Lo so, l'abbiamo sentita troppe volte. Ma vendiamola, privatizziamola onorevole. Ma guardi, in questo momento significherebbe svenderla perché è in condizioni dal punto di vista economico veramente messe male, quindi significherebbe fare un regalo a qualcuno. Prima bisogna metterla a posto. Per metterla a posto dobbiamo togliere necessariamente le influenze politiche dalla RAI, soprattutto nella sua dirigenza, altrimenti diventa un poltronificio. Poi io capisco, anche i nostri ascoltatori sentono dire in questo momento le solite cose e infatti il tema vero alle prossime elezioni politiche non saranno solo i programmi, perché i programmi li hanno tutti, nessuno dice di voler alzare le tasse o di voler fare la legge Fornero, poi te la fanno o ti alzano l'IVA. Quindi quale sarà il criterio per riuscire a sopravvivere alle prossime elezioni politiche? È la credibilità, è la storia personale di chi si presenta. Se si presenta uno che ha fatto quello che diceva, bene. Se si presenta uno con un bel programma che non ha mai fatto quello che diceva, non merita la nostra fiducia. Però questo vale per tutti perché insomma voglio dire... Io vi permetto di dire una cosa, noi siamo l'unica forza politica che aveva detto, guardate, entreremo in Parlamento, ci dimezzeremo gli stipendi e investiremo in lavoro. Però non l'avete mai governato, onorevole. A 4 anni e mezzo abbiamo 20 milioni di euro di tagli dei nostri stipendi che hanno creato 5 mila imprese in Italia e dato lavoro a 10 mila italiani. Sono tanti? No. Ma è un segnale. Ma sono un'idea di paese in cui prima ancora di diventare governo, prima ancora di aspettare una legge, noi abbiamo fatto quello che avevamo spettato. Ma non l'avete governato. Questo però ce lo lasci dire. Eh, vogliamo essere messi alla prova su questo. Come Macron. Vedete che abbiamo trovato un altro parallelismo. Aspetta, 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 aspetta che ce n'è un altro prima di chiudere, se no c'è poco tempo. Allora lei, diciamoci la verità, si è parlato moltissimo di questa storia con Brigitte. Di Macron e Brigitte. Sì. Lei ha 24 anni più di lui. Sì. Se non sbagli, scusi se la se la tiro per la giacchetta su gossip, ma io so che la sua fidanzata ha dieci anni più di lei. Sì, è vero. E come si sta a fare il toy boy della propria fidanzata? Non sono 24 però. Devo dire che lei dimostra molti meno anni di quelli che non è. Beh, anche Brigitte, dai! Sì, 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 no, ma per carità non voleva essere una critica. Vediamo di non fare qualche incidente internazionale diplomatico in questo momento da RTL. Per carità, parlavo della mia fidanzata. Sa che cosa ha colpito? Lei prima ha parlato di editori puri e veramente ci fa piacere sottolinearlo con orgoglio. Lei sta parlando in una radio che ha un editore puro, ma conosce la nostra storia, per sommi capi, quindi non starò a ripetere. Eppure voi avete una responsabilità anche per esempio rispetto a tanti vostri attivisti che sono persone bellissime, buonissime, però anche animate a volte da uno spirito critico, uso un eufemismo, un filo eccessivo. Per esempio, noi ogni giorno riceviamo valanghe di insulti, ma insulti proprio non riferibili, non pubblicabili, semplicemente perché magari osiamo non essere d'accordo in tutto quello che dice Luigi Di Maio piuttosto che X o Y. Vogliamo dirlo che la libertà di stampa è libertà di critica e finirla anche un po' con questo mettere all'indice e qualche responsabilità forse ce l'avete anche voi. Se non si è pentito di aver portato quella lista? Guardi, io penso soltanto una cosa, che ci sono i giornalisti che fanno un ottimo lavoro in questo paese. Alcuni giornalisti sbagliano in buona fede, altri, mi sono reso conto sulla mia pelle, non si degnano neanche di verificare la notizia chiamando il diretto interessato e diffondendo delle fake news. In quel caso io ho in mano uno strumento che è la querela e in mano uno strumento che è la segnalazione all'ordine dei giornalisti. Detto questo, diciamolo a tutti perché se può farla stare più sereno, anche io ricevo tantissimi insulti da persone che non sono ovviamente del Movimento 5 Stelle ma di altre forze politiche. Quindi in generale il nostro appello va ad utilizzare il diritto di critica in maniera responsabile. Ci soffre o se le fa scivolare addosso le critiche? Devo dire che mi scivolano per ora. Mi scusi, ti ha detto quindi che devo stare sereno? Sì. Stia sereno, attenzione. Ecco, punto. C'è l'anatema adesso. Vabbè, grazie a Luigi Di Maio davvero, grazie per questa mattinata. Grazie, è stato un vero piacere. Aspettiamo anche a Milano prossimamente. Grazie. Ci fa molto piacere che lei abbia accettato il nostro invito e speriamo di aver chiarito molti punti ai nostri ascoltatori. Quando vuole tornare noi siamo qui. Grazie. Va bene, noi salutiamo da parte di Giusy Legrenzi, Fulio Giuliani e Pierluigi Diacqua. È veramente tutto l'appuntamento a domani. Ciao a tutti, a domani. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 125. Direttore responsabile Luigi Tornari.